ha fatto trovare a lui delle cose in camerino all'arrivo ma pensa tu comunque ma sei esagerata però Gemma ma no non sono esagerata ma sono quello che sono ho torto io quando dico che tu fai un regalo di quel genere che hai fatto a Giorgio con cui hai avuto una storia importante lo vai a fare a Maurizio che non c'è stato niente e ti ha anche usata ma non è la stessa cosa infatti non è la stessa cosa io ho fatto una sorpresa Maria ma una fa una sorpresa quando c'è un qualcosa la vediamo vediamo anche come ha reggito lui lei così fa fare la sorpresa a un uomo che l'ha cioè tu dimmi la cosa ma tutto il resto non l'ha sentito c'è un uomo che ha la possibilità di invasciarti quando è stata fatta la scena del segreto ha preferito Maria che l'ha sottovalutata che l'ha sottovalutata rispetto all'altra donna sto dicendo che mi sono tolta in quel momento in cui eravamo in tre e mi sono tolta io ma ma ti sei tolta perché sei stata costretta a togliere perché sei stata costretta a togliere quando vedi una mancassa di interesse adesso vado a parlare in quel modo adesso tu mi devi dire dopo una sfilata di moda dopo tre settimane che sei stata scartata che quello non si ricorda manco come ti chiami lei che cosa non solo va a chiamare si e gli faccia anche le sorprese che cosa fa la sorpresa esatto perché faccio quello che sento va bene bene